La fede è la fede, la fede è la fede, il nostro corso, e la nostra fede è questa altra. Ma non tutti siamo ancora con noi, come giorno siamo la voce e la fede. In questo corso abbiamo un esempio, avremo un po' detto, salto della speranza contro non vogliamo sperare. In verità, in tempi difficili non vediamo nessun motivo per un chiarire che speriamo, eppure speriamo, eppure speriamo. Questo può succedere nella vita per ognuno di noi. Questo può succedere nel passato sociale. Con il salmista ci chiediamo perché viaggia l'anima viaggio? Perché viaggia l'invito? Speriamo l'invito. Ringuiamo e rafforziamo la nostra fede e continuiamo a combinare le stesse, poiché egli salva coloro che hanno per il tuo corpo, ognuno di Gesù. E questa speranza ad aprire, non tende. È veramente in Cristo che comprendiamo il pieno significato della sofferenza. Durante questa meditazione, mentre ricontenteremo un'angoscia d'aspetto doloroso della sofferenza di Gesù, vorremmo anche l'attenzione al suo valore evidente. Era il secondo del progetto di Dio che il Messia avrebbe dovuto soffrire, e che queste sofferenze dovessero essere perdute. La consapevolezza di questo ci riempie la mia speranza, e questa speranza a mantenerci dieti e costanti nella tribolazione. Un cammino di fede e di speranza è un lungo cammino spirituale, attento al più di questo profondo disegno di Dio nei processi psicologici e negli eventi della storia. Poiché sotto la superficie di calamità di grande, guerre, rivoluzioni e confitti di ogni gente, vi è rappresentato. Grazie. 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 Grazie.